Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Chiara e mi sono laureata nel corso di scienze del turismo a ottobre del 2019 e ho deciso di frequentare il nostro Ateneo proprio perché si ha un confronto diretto con i docenti. I docenti vogliono trasmettere un qualcosa, un messaggio e lo vogliono fare attraverso delle attività vere e proprie su campo. Infatti io ho avuto l'opportunità di partecipare ad un workshop di turismo sostenibile in ambienti fragili che si è svolto proprio alle Maldive.